Lei, Giuseppe Galluccio, intende prendere la qui presente Sara Matteucci? Lei, Sara Matteucci, intende prendere per marito la qui presente Giuseppe Galluccio? Proclamo e dichiaro il nome della legge che oggi, 4.09.2015, in Viareggio, Sara Matteucci e Galluccio Giuseppe sono uniti in matrimonio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.